allora sono passati dieci giorni per quanto riguarda la ripartenza del mio carpino quindi come promesso come faccio con tutte le mie piante andiamo a vedere i risultati e andiamo a spiegare cosa aspettarci ancora da questa pianta e soprattutto cosa bisogna fare ovviamente in questo caso perché come vedete alcuni diranno di no alcuni diranno che no la pianta è troppo verde la pianta ha troppe foglie le foglie sono troppo foglie se ne sento di tutti i tipi quindi andiamo a vedere i risultati andiamo a capire cosa fare però per quanto riguarda la prima ripartenza siamo quasi arrivati alla maturazione sfido chiunque a dire che la pianta non è a posto o che c'è un singolo problema quindi per quanto riguarda la concimazione direi che il miracolo ha fatto anche fatto il miracolo ok si vede il prodotto bene e vedere 360 gradi la pianta tranquilli adesso tra un po me la pianto e dir cazzate andiamo a vedere la pianta 360 gradi vediamo cosa ha combinato cosa deve fare come intervenire e soprattutto qual è l'obiettivo che dovete per cioè quella strada che dovete percorrere per avere un risultato come questo le nostre piante no perché se no vi perdete in 200.000 cazzatine senza senso ok andiamo a vedere su tutti i lati vediamo che la pianta sta facendo il matto ok spara spara a lungo quest'anno proprio boom no ed è quello che devono fare tutti i bonsai questo è il retro si vede bene questa schiena della pianta ok questo lato di qua per carità dove si gira si gira sembra sempre il fronte cioè questo è buon segno ragazzi ve lo voglio ripetere è buon segno cioè la pianta è in super salute super nutrita chi vi dice che i concimi fanno male quelli liquidi quelli i miei perché tanto solo i miei fanno male adesso c'è sta modo di dire che la roba che faccio io ah no no però no no però però quello che anzi lo rimetto qua così lo vedete bene però quello che faccio vedere io ragazzi purtroppo purtroppo per fortuna mia no non si vede e vi faccio capire una cosa perché sennò qua ragazzi tutte le volte cioè mamma mia guardate ma è grande come me sta pianta cioè guardate che roba ma di che cazzo mamma mia quanto cazzo pesa guarda che il vaso ingresso ragazzi pesa un accidente quindi usate vaso in plastica rigida quelli che trovate sul sito ma io dico ma di che cazzo stiamo parlando ragazzi ma io una roba così non la vedo mica su altri canali youtube no che stanno lì a fare ecco le pinzettine a schiaccolarsi con i mignoli così con due mignoli poi dopo non so boh che cazzo devono fare quelle che se le scopano le piante cioè sta lì gli fanno un buco poi dopo ci danno dentro e poi ah sì questo è un bonsai ma che cazzo di bonsai è? un ciclamino mezzo morto sono a pazienza torniamo sulla potatura proviamoci molte persone mi stanno scrivendo se è ancora il periodo giusto per fare la potatura sulla pianta questa questa vi dico subito questa è una domanda sbagliata cioè di partenza è una domanda sbagliata perché perché ci può stare pensare che ci sia un periodo giusto per fare una potatura però bisogna sempre mettere come prima regola se c'è bisogno di cioè se la pianta ha bisogno di essere potata per quale motivo cioè bisogna capire un pochettino se è il caso di intervenire sulla pianta piuttosto se è il caso di potare perché è primavera cioè che cazzo vuol dire io ad esempio le potature le faccio in primavera in estate in autunno e in inverno cioè io poto sempre cazzo cosa vuol dire che bisogna prima di tutto portare a regime la pianta cioè deve dimostrarci che è in forma che sta bene perché se andate a potare una pianta che ha quattro rami e questi quattro rami poi stanno così perché non gli date da mangiare non gli date da bere il substrato è colla fa schifo la tenete magari sotto al letto perché gli dicono di tenerla pure in casa ok è arrivata la primavera cosa facciamo tagliamo pure cioè ve le volete veramente cioè non so ma cosa volete farci con queste cazze di piante volete ammazzarle cioè devono morire a sto punto no quindi prima regola è slegarsi da ogni ogni tipo di ragionamento che è tempo dipendente perché tanto quando inizierete a coltivare le piante degnamente cioè come va fatto scoprirete che ogni momento è giusto per fare la potatura solo ovviamente su alcuni rami della pianta quindi le manovre si fanno sui rami che sono maturi e sulle piante che in generale stan bene perché sennò andate a perdere tutto quello che avete fatto questo perché qui ad esempio c'è bisogno di fare una potatura però io ancora un pochettino aspetto perché ho bisogno di portare veramente a maturazione all'ignificazione un po' questi butti perché se no se il ramo non è maturo non è pronto quindi ancora erbaceo non è non è duro e noi tagliamo c'è caso che la pianta lo scarta oppure da quel taglio non viene fuori niente cioè si ferma lì e dice ok mi hai tagliato la testa mi fermo perché se no non so più cosa devo fare quindi allunghiamo maturiamo tagliamo più corto che si può ovviamente guardando un pochettino anche la struttura della pianta a quel punto se il ramo è grosso dietro arriverà nuova linfa quindi la pianta è pronta per ramificare ok però attenzione che pazienza su questa pianta qui è giusto aspettare la maturazione ma attenzione perché se aspettiamo troppo poi andiamo poi a fare danno perché perché qui non passa più luce cioè qua non si vede più un cazzo dentro cioè ragazzi non so se si vede ma ma voi il tronco lo vedete cioè si vede ancora il tronco cioè non si vede niente la roba che sta sotto ve la scarta tutta quindi se avete una pianta come questa tirate su ogni tanto la vegetazione e guardate sotto cosa c'è perché se vedete che sono dei butti piccolini oppure delle foglie che iniziano già un pochettino a ingiallire è già il momento di tagliare sopra c'è la roba forte tagliatela subito quel punto perché se no la pianta inizia a scartarvi tutto perché non passa luce e ossigeno ok quindi l'albero cioè all'albero non gliene frega un cazzo di diventare un buon salio le cose come stanno cioè siamo noi che abbiamo sta mania nella testa di andare a fare le nostre modifiche però il suo obiettivo è assolutamente quello di allungare e fare foglie più grandi possibili per prendere poi la luce del sole punto questi sono dei pannelli solari più ne fa meglio è perché tanto il suo obiettivo è sopravvivere soprattutto sopravvivere alle nostre stronzate che gli facciamo ok quindi lei è portata a buttare su e all'allungarsi però se il nostro obiettivo è creare un bonsai questi rami che sono sotto vanno tutti preservati perché se no nel giro di qualche settimana ragazzi tornano indietro cioè li va a scartare o rimangono così se ci va bene oppure se non interveniamo come si deve tutta la pianta questa inizia a mollarli li molla semplicemente perché stanno sotto cioè la roba che sta sotto a lei non gli interessano i rami quelli lì perché tanto lei è portata a dar forza a tutti quei rami che per lei sono ottimi per sopravvivere chiudendo il discorso per quanto riguarda la concimazione e tutto il resto ragazzi io non so più come cazzo dirvelo cioè ma più che farvi vedere le cose e più di farvi vedere anche la progressione di ogni pianta che ho per farvi vedere anche sui pini sui cipressi sulle sughere sulle querce e gli aceri e il cazzo che vi ammazza e l'olmo e il carpino e l'olivo cazzo tutte le piante vi faccio vedere a un certo punto potrete capire che la concimazione è quella su tutto perché tanto la minestra è quella cioè è come fare dei ragionamenti ok questa persona è italiana allora deve mangiare in questo modo questa invece che viene dalla cina e no non va bene i carboidrati non va bene le proteine no deve mangiare la plastica cioè ma io non so ma quello è le piante mangiano tutte allo stesso modo piantatela di andare a cercare altre soluzioni soprattutto in lidi dove ancora non si stanno anche facendo bonsai ci sono troppi canali dove ci sono dei ragazzini che stanno lì a decifrare a raccontare a cercare di capire ancora loro che cazzo stanno facendo quindi attenzione ricordate sempre che io sono il dio del bonsai quindi un motivo se io sono qui e voi siete lì guardate questo video un motivo c'è ve lo posso garantire ok e c'è anche un motivo se questa cosa qui è diventata il mio mestiere l'unico lavoro che sto facendo nella mia vita e ci sto campando molto bene vi dico la verità ok detto questo un saluto a tutti un saluto anche da parte sua perché tanto ormai gli manca solo di parlare perché è una roba è un mostro inarrestabile anche quest'anno mi sta dando delle soddisfazioni esagerate un consiglio che vi do andate sul mio canale andate a vedere un pochettino due tre anni fa quattro anni fa cinque anni fa come era sta pianta così potete rendervi conto di che cazzo stiamo parlando anzi vi metto io la foto adesso ecco questo era come era prima quando uno dei primi video che ho fatto e questo è quello che invece sta diventando cioè ragazzi questo vuol dire costruire le piante ci vuole la trasformazione ok se non c'è la trasformazione non c'è niente ok il mantenimento su piantine scadenti che sta morendo non è mantenimento è morte imminente dalla pianta se la pianta non va avanti o se cioè se non va avanti ragazzi a un certo punto si ferma se si ferma quella è una pianta che a un certo punto inizierà ad andare indietro ok quando inizierà andare indietro la pianta è finita c'è poche pugnette concentratevi sul far buttare fuori vegetazione alla pianta perché è l'unico modo per farla rinforzare ok quindi consumiamo bomba ogni 15 giorni sempre ok tutto l'anno prendete i prodotti prendete il protocollo nucleare sul sito così siete a posto su tutto avete anche lo sconto la spedizione è gratuito ok claudibonsai.com per prendere tutto quello che vi serve a breve arriveranno anche le attrezzature da taglio quindi forbici inox fatte bene che costano il giusto lasciate un mi piace condividete con i vostri amici bonsaisti e iscrivetevi anche alla nuova pagina facebook claudibonsai dio del bonsai ho fatto la nuova pagina perché quella vecchia iniziava a dare problemi perché mi erano entrati gli hacker a romper i coglioni quindi avevo via ho cambiato ho fatto prima cambiare perché non ce l'ho voglia di stare lì a rompermi i coglioni ciao a tutti mi raccomando fate i bravi e cercate di iniziare col piede giusto perché se no continuate a farvi le domande sbagliate ok si coltiva in questa maniera punto e basta ok è così che si fa ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video grazie mille grazie mille grazie mille